Oddio, Enzo è un bambinone, eh. Anche se ti dovessi dire la verità, ultimamente è maturato tantissimo. Però, ah oh, è che sotto quel punto di vista non si... Ha capito, no? Dice che c'è sta più il file. Sì, però, se ti posso dire, l'uomo un po' ha bisogno di sognare. Cioè, tu ogni tanto mettitela una calza a rete, una GPR, poi gli dai sotto con i preliminari. Per esempio, tu come stai messa a petting? C'è una terza abbondante. Sì. Alice! Oh! Scusa, ma è mezz'ora che suona? Oh, grazie. Pronto? Insultami, torbita morena. Ti prego, umiliami! Carissimo, mi può attendere in linea un attimo, per favore? Grazie. Scusa, non devo fare il lavoro? Ah sì, me ne vado, me ne vado. Grazie. A merda. Sì! Ha fallito. Fallito, ha fallito! Non vale niente, non vale. Un cazzo! Io ti gonfio! Ti fratturo i mignoli! Fatto. Ciao. No, scusa, è che me ne fate arrabbià, quando mi fanno arrabbià non mi fanno fai.